Perchè? Ah ok hai capito Anzi io monto dal camion così spesso Eh scatto sarà l'alarma Posso entrare No perchè? Ma ci hanno già visto Eh ma lo sanno che io sono fabbrica Certo lo sanno Ok ne ha ucciso uno Prendono informazioni Oh camion Aspetta qua c'è una minica C'è una minica Qua c'è una minica Vieni dove sono io No eh c'è bisogno di distruggere Oh dai Oh dai Ehm No No Sto sparando al minicottero Vai Sto sparando al minicottero Devi sparare al minicottero Granata Faccio scoppiare il coso Vai Sotto col prossimo Andiamo Salgo Oh ma non muoiono Che ha messo il camion Oh Via Incastrare Elway Ma è bellissimo È lontano Vedete cosa riuscite a scoprire Aspetta Aspetta prendiamo un Aereo C'è un aeroporto Che fai? Fermo Si si buono Vai Guarda davanti Inizio a sparare Spara Spara Ma scusano No Chiara Destra Destra C'è un aeroporto Io vado verso l'eroporto Vai 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 No ma mi hai bloccato Cazzo 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 C'è morto Bravo Ehm Ehm Non mi copri Ma cosa non mi copri? Sono in macchina Cosa ti dovrei fare? E' colpo tu Ora andiamo Non andiamo a prendere Poi Perché sei sceso? Cioè potevi sparare No Te esci C'è un'elicottero Un'elicottero Secondo te io Anche mi hai detto Ok fallo No io secondo te Perché sono andato lì Per l'elicottero no? Allora Allora Prendiamo l'elicottero Ok ora andiamo direttamente Perciò l'elicottero Senza fare casino Eh infatti No ma devo prendere anche i dati qui Si che 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 Ehm Da dove c'entra Da qui Come si? A mangiare un kebab No Prendo le risorse Faremo trovare i rifornimenti ai ribelli Ci ripagheranno in seguito Faremo trovare i rifornimenti ai ribelli Ci ripagheranno in seguito Direi che abbiamo morto in comune Sarebbe felicissimo di darci una mano a bloccare la produzione della pirolosite Allora spariamo pure Scherzo Oh Nemico è matuto Oh Oddio No Oddio Nooo 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 In questi fasi si fa così Andiamo All'interno a sparare tutto Che cosa bisogna prendere? Uccidere 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 Grazie a tutti.